Amici sportivi del Mala, appassionati del grande ciclismo, benvenuti al video commento della primissima tappa del Giro d'Italia 2020, la corsa più bella e dura del mondo, nel paese più bello del mondo. Oggi abbiamo veramente tantissimi temi da snocciolare in questo cronometro individuale di 15 km e 100 metri, però prima andiamo a scoprire che cosa hanno affrontato oggi i corridori. Una crono caratterizzata dai primi millimetri in salita verso la cattedrale di Monreale e i successivi 4 km in discesa, dove si potevano toccare velocità di tipo 100 km orari, quindi capite la velocità di che stiamo parlando. La cattedrale di Monreale valeva anche come GPM di quarta categoria e quindi lì si è aggiudicati anche il possessore di domani della maglia azzurra. Poi il secondo regolamento cronometrico all'entrata del centro di Palermo, poi gli ultimi 5-6 km sono stati determinanti per vedere un secondo chi aveva ancora la gamba per andare veloce e fare il tempo migliore, fino appunto al traguardo di Palermo in via della libertà, però adesso andiamo a scoprire com'è andata. Quindi quel chilometro in salita nelle primissime fasi della crono poteva riservare delle sorprese, poi però dopo lo scollinamento alla cattedrale di Monreale e i successivi 4 km in discesa, insomma poi c'era la crono poteva sotto l'aspetto altimetrico abbastanza in piano se non in leggera discesa e quindi diciamo che le specialisti delle prove contro il tempo alla fine erano i favoriti principali della giornata di oggi e a vincere questa cronometro individuale anche contro il vento perché oggi il vento è stato nella prima parte della corsa un fattore fondamentale per la crono di alcuni corridori, però invece per Filippo Ganna il campione del mondo della cronometro individuale. Settimana scorsa a Imola il vento non è stato per niente un fattore, si è giudicato la vittoria con un tempo straordinario che ha sfiorato quasi i 59 km orari di media, quindi capite bene che ha coperto praticamente 15 km al ritmo di 1 km al minuto, quindi c'è tanta roba. Alziamo le mani e iniziamo ad applaudire perché raggiungere medie orarie di questo tipo è da fantascienza, bisogna essere onesti. Filippo Ganna che quindi approfitta di questo percorso e anche di un vento che se agli altri corridori era diciamo come dire trasversale barra di fianco e diciamo che faceva cambiare direzione ai corridori nel mantolo stadale, diciamo che per Filippo il vento invece era abbastanza a favore e quindi favorito da questo vento si è portato a casa la vittoria e anche la prima maglia rosa di questo Giro d'Italia 2020. Poi vabbè è stato anche aiutato dalla bicicletta realizzata ad hoc per questo cronometro, questa pinnarello veramente fantastica dove era stata progettata ad hoc per la cronometro di oggi, l'ha sfruttata alla perfezione. Ho letto stamattina la gazzetta che addirittura questa bicicletta da cronometro che ha usato oggi Filippo Ganna costa 25.000 euro, quindi c'è ragazzi una bicicletta veramente che viene usata solo per questo e che insomma costa quasi come una macchina. Bravo Filippo dopo il mondiale della settimana scorsa ha realizzato anche il suo secondo sogno ovvero di vestire di rosa al Giro d'Italia. Poi vabbè domani non sappiamo se la conserverà però almeno oggi ci ha fatto ancora una volta emozionare. Per quanto riguarda invece gli altri uomini che erano osservati con attenzione dagli addetti ai lavori e anche dagli appassionati di ciclismo come me, diciamo che la situazione sia un pochino delineata anche fra gli uomini di classifica. Se negli altri anni comunque, nelle primissime tappe, gli uomini di classifica erano praticamente tutti attaccati, diciamo che con la cronometro di oggi qualche scossone ci poteva essere anche ed è stato così, nel senso che Garen Thomas è il favorito numero uno per la conquista. Il Giro 20-20 diciamo che ha confermato che in cronometro non si batte, non si batte veramente per cercare di combinare qualcosa e arrivare nell'ultima crono, quella di Cernusco, Suonaviglio, Milano, con un diciamo non basta avere 20-30 secondi, bisogna andare oltre 2-3 minuti. Gli altri purtroppo non sono andati benissimo, Garen Thomas si è classificato a 23 secondi da Ganna, gli altri superano abbondantemente il minuto. Vincenzo Nibali perde il minuto 0-6 da Thomas, Kederman un minuto 0-5, Kruzvik 1-21, Fulsang 1-24. Però diciamo che la notizia negativa per Fulsang è che perde già un compagno di squadra fondamentale come Miguel Angel Lopez che poco prima del secondo rilevamento cronometrico purtroppo ha avuto la sfortuna di incontrare un tombino e di perdere il controllo della bici mentre stava impostando la curva, ha perso il controllo andando a sbattere contro i transenni in maniera abbastanza pesante e quindi è stato poi costretto al ritiro. auguriamo veramente una pronta guarigione a Miguel Angel Lopez perché ne ha veramente bisogno questo corridore che è sempre colpito da una sfiga impressionante. Lasciando perdere questo discorso, gli altri uomini di classifica, alcuni si sono difesi, per esempio Vlasov si è difeso per solo 57 secondi da Geraint Thomas e diciamo il migliore dei non esperti delle crono è stato Simon Yates che perde solo 26 secondi, quindi il migliore oggi è stato Simon Yates se non consideriamo Geraint Thomas fra gli uomini di classifica, Iates si sono praticamente già costretti ad inseguire dopo una sola tappa. Tre classifiche perché insomma in sostanza Ganna comanda tre classifiche su quattro, non comanda la classifica della maglia azzurra perché è stata assegnata Rick Zabel della Isle Nation Startup dove in sostanza veniva assegnata la maglia azzurra a chi faceva il miglior tempo di scalata sulla cattedrale di Monreale, Rick Zabel è stato il migliore e quindi domani indosserà lui la maglia azzurra, mentre la maglia bianca, la maglia ciclamino e la maglia rosa in teoria devono essere tutte e tre indossate dalla Ganna ma ne può soltanto indossare una e ovviamente indosserà la maglia rosa. Tappa di domani da Alcamo ad Agrigento, attenzione all'arrivo in salita di Agrigento dove qualche finisher potrebbe anche fare il colpo grosso, vediamo se domani Filippo Ganna mantiene la leadership, non ne sono convinto al 100% però mai dire mai è in uno status di forma Filippo straordinario, magari domani potrebbe anche terminare la tappa ancora una volta con la maglia rosa in pugno. Quindi per il momento è tutto per il Giro d'Italia 2020, ci vediamo domani per il commento della seconda tappa di questa edizione numero 103 della Corsa Rosa, sempre qui con il Mala!